Musica Ci sta venendo un dubbio no? Ci sta venendo un dubbio perché Scusate il pigiama è imbarazzante Siamo in pigiama e ci siamo appena svegliati Ci sta venendo un dubbio Abbiamo scoperto una cosa clamorosa Perché Ieri sera abbiamo visto la partita dell'argentino No? L'Ele Adani è esploso al gol di Messi No? E' esploso al gol di Messi E' scoppiata una polemica clamorosa Ma a noi della polemica non è che ci interessa Ma abbiamo scoperto una cosa Ma non è che L'Ele Adani E' entrato nel corpo di Tu te lo ricordi quello? Ascoltiamo prima la telecronaca di L'Ele Adani Col pallone per Messi Messi ai 20 metri Con chiusione Leo Messi Leo Messi Leo Messi Il sinistro milione del mondo Da Di Maria A Messi Dalla Bahadala Per Triel Sempre Rosario La città del calcio Uno per l'altro Si sblocca la partita Nel giorno in cui raggiunge Si sblocca la partita Grazie.